Se ti ricordi, Juan Dennis era con questo atteggiamento sui pedali, rilanciava continuamente la bicicletta e faceva velocità. Questa è davvero cruciale avere il cronometro però a disposizione, 5.42 per Seb Kuss che è finito nel gruppone con tutti gli altri, non è andato male comunque l'americanino della Jumbo Visma. Siamo alle ultime pedalate per Remy Cavagnat. Sta andando forte, sta andando veramente molto forte, 100 metri alla conclusione. Però va dietro, va dietro, va dietro anche Ricci Porte. Cosa fa quello lì? Perché ha fatto scattare quello che è passato, 5.37 Cavagna. Un po' di bis.